Allora sono qua sulla normativa ISO 129 del 2018, quella attualmente in vigore sulla rappresentazione delle quote, in modo molto semplicistico, che ha sostituito, come ho fatto a vedere nel video precedente, tutte le normative, soprattutto per noi italiani, la UNI, che ormai non sono più in vigore, e per noi è questa qui in vigore. E allora, leggendo velocemente, sono arrivato a questo punto, cioè nel punto 4.1.7, caratteristiche e presentazione. Allora, per le tolleranze attaccate a una dimensione, come questa qua, secondo la ISO 286-1, cioè le povere, le nostre tolleranze ISO, dunque F7 e così via, in questo caso diametro 30, F7, non è necessario, non è necessario, it is not necessary, esprimere, ok, i valori, cioè scrivere i valori, dello scostamento superiore ed inferiore, perché noi con Solidworks possiamo metterlo, no? Abbiamo ottimizzato, ottimizzato con tolleranza, sono solo ottimizzato, e dunque possiamo mettere, andare con la nostra finestrella, andare a prendere, in questo caso diametro 30, F7, o scriverlo, ma è meglio andare con la finestrella, e poi possiamo dire, ottimizzato con tolleranza, possiamo mettergli scostamenti superiore ed inferiore, però io non li voglio, non li voglio, fondamentalmente per due ragioni, primo perché così il disegno è più pulito, secondo, se metto gli scostamenti, devo poi controllarli, non è detto che nel 99% solito sono giusti, però possono anche sbagliare, possono anche fare un errore ai miei alunni, e possono essere sbagliati, allora, in più, io, terzo motivo a correggere, e dovrei teoricamente correggere, e andare a vedere se gli scostamenti sono giusti, e dunque, a mio avviso, questo punto, perché poi ci sono altri docenti che sostengono, invece, che bisogna assolutamente mettere gli scostamenti superiore ed inferiore, però, a mio avviso, no, perché poi, naturalmente, se uno lavora in ufficio tecnico, è il suo proprietario, è l'imprenditore, e il capo ufficio gli dice, no, devi metterli, allora, è un altro conto, però, siamo a scuola, il disegno diventa, perché certe volte gli scostamenti, poi si allunga, la scritta, risulta pesante, il disegno, a mio avviso, è meglio fare così, e viene in aiuto questa, non sono obbligato, a mettere gli scostamenti superiori ed inferiori, se io ce l'ho secondo la ISO 286, cioè il mio F7, il mio H7, H6, quello che è, non è necessario scrivere anche lo scostamento superiore ed inferiore, a meno che il mio capo ufficio me lo imponga, ok, siccome il capo ufficio nella mia aula sono io, io non lo impongo, e dunque i miei alunni non lo devono mettere, vabbè, però, dico, sono anche, supportato, dalla ISO 129 del 2018, nel paragrafetto 4.1.7, vabbè, spero di essere stato utile, ci vediamo alla prossima, arrivederci, a tutti i miei,